Giornata di studio al Consiglio Nazionale delle Ricerche per affrontare il tema degli organismi geneticamente modificati, meglio noti con la sigla OGM. L'evento, organizzato dall'Accademia dei Lincei in collaborazione con il CNR, si svolge all'indomani della decisione dell'Unione Europea che ha stabilito per ciascuno Stato aderente la possibilità di scegliere in completa autonomia se utilizzare o meno gli OGM. Se in Italia la posizione dei governi da 15 anni a questa parte è stata di totale chiusura in questo campo, nel resto del mondo, come nella stessa Europa, l'utilizzo di OGM e la ricerca in questo settore sono andati molto avanti. Il convegno al CNR ha cercato di affrontare l'argomento esclusivamente dal punto di vista scientifico, evidenziando nel contempo i pericoli a cui è esposta la collettività legati ad una mancanza di conoscenze approfondite in questo settore. Io penso che il convegno di oggi sia estremamente importante per fare il punto. Certamente la scienza, diciamo, come ricerca non può essere assolutamente bloccata. Quello che deve fare soprattutto il nostro paese, siamo nel tempio della scienza, deve essere pubblico, deve essere fatto dal pubblico e non darlo nelle mani di altri. Come si può dare il destino dei cittadini a altri che guardano, diciamo, al più al guadagno che al bene del cittadino. Allora, dottor Annunziato, il CNR come si sta occupando di OGM? Il CNR da sempre si occupa di organismi geneticamente modificati, poiché naturalmente sono la base ormai da 30 anni per il miglioramento delle produzioni agricole a livello mondiale e per lo studio di specie vegetali che siano più resistenti a pesticidi e fitofarmaci e quindi naturalmente che riducano l'utilizzo di queste sostanze che effettivamente fanno male. Oggi, specialmente per ciò che riguarda anche la produzione agricola, oltre che per ciò che riguarda appunto la sicurezza degli elementi, il CNR sta svolgendo grandi esperimenti, importanti esperimenti, collaborazioni anche fuori dall'Italia, sia in Cina per esempio, sia in Israele e sia in Mongolia, dove appunto si sono stati avviati dei progetti anche appunto per l'utilizzo ottimale di alcune produzioni in aree a bassa disponibilità di acqua. Quindi non si sperimenta in Italia ma si cerca di farlo all'estero dove è possibile? Beh, la normativa italiana rende particolarmente complicato sperimentare culture UGM in Italia e quindi dove è possibile e quando è possibile si partecipa a progetti che invece appunto progetti di ricerca che invece sono molto sviluppati all'estero. I fondi per la ricerca pubblica, già scarsi in Italia rispetto agli altri paesi industrializzati, sono stati ulteriormente ridotti per la spending review. Nel settore delle biotecnologie sono poi quasi inesistenti. Non ci sono i fondi per fare la ricerca ma i pochi fondi che vengono distribuiti o qualche fondo si ottiene soltanto se si garantisce che non si utilizzano poi, che non si faranno UGM. E questo porta logicamente ad una mancanza di prodotto da mettere sul mercato ma porta soprattutto ad una mancanza di conoscenza di questi processi e dei fenomeni che regolano la vita in generale. Noi non avendo conoscenza non abbiamo neanche possibilità di controllo. Voglio dire, la ricerca in precedenza fino a circa 50 anni fa o anche 30 anni fa era di mano pubblica essenzialmente. Quindi quello che si conosceva veniva pubblicato, veniva reso noto ed era proprietà di tutti. E oggi con le ditte che si sono impadronite di questa attività diventa privato. Addirittura non brevetano neanche per non svelare quello che hanno trovato e quello che stanno utilizzando perché nel momento in cui si pubblica il brevetto, il brevetto diventa pubblico, l'innovazione diventa pubblica a conoscenza di tutti e può essere utilizzata per migliorarla o per adattarla a particolari situazioni pagando delle royalties. Questo se noi non abbiamo conoscenza siamo completamente fuori dal mercato. L'Italia ha scelto questa linea che inevitabilmente marginalizza tutto il sistema di ricerca, non soltanto il CNR, nell'evoluzione della ricerca scientifica su questi campi. Sappiamo tutti che il prossimo futuro vedrà inevitabilmente uno sviluppo sempre più preciso, sempre più attento ma inevitabile degli OGM e quindi in una prospettiva di 10 o 20 anni sicuramente questa ricerca diventerà fondamentale. Questa scelta italiana rischia di limitare la possibilità dei nostri ricercatori italiani di partecipare a questa evoluzione, quindi di trovarci fra 10 o 20 anni in grande difficoltà. Al momento lo sviluppo delle biotecnologie è talmente avanzato nel mondo che una tutela dei consumatori attraverso la tracciabilità degli OGM in etichetta potrebbe non essere così facile. La biotecnologia nel settore delle piante si sta evolvendo verso una precisione che consente di inserire un gene senza lasciare traccia. Cioè il gene c'è però non si sa come è stato introdotto. L'Italia se non comincia ad investire con maggiore determinazione sulla ricerca e sull'innovazione tecnologica rischia di perdere competitività e appunto di continuare a non crescere perché noi ormai sono quasi 20 anni che non abbiamo una crescita reale del PIL ma soprattutto sono quasi 20 anni che non abbiamo una crescita della produttività. Questo si traduce in posti di lavoro e quindi in qualità dei posti di lavoro quindi in livelli di retribuzione e quindi in standard della vita. E la prossima occasione dell'Expo 2015? Questo è un evento importante. Io credo che il tema dell'alimentazione sia stato un tema molto azzeccato come si dice dall'Italia già a suo tempo quando fu proposta la candidatura perché è un tema molto sentito, è un tema molto orientato verso il futuro, è un tema molto importante per il nostro paese. Il rischio grande è che questo tema così strategico venga letto in Italia come la fiera dei prodotti italiani, la fiera del Made in Italy nel campo alimentare e basta e quindi il rischio è quello di trovarsi di fronte a una grande fiera di paese. Devo dire che la dottoressa Diana Bracco, presidente del Padiglione Italia, ha reagito immediatamente alla proposta del presidente Nicolai di dedicare uno spazio sia fisico, temporale ma soprattutto intellettuale di Expo, in particolare del Padiglione Italia, proprio al tema delle ricerche scientifiche. è nata una collaborazione tra il CNR e il Padiglione Italia in base al quale sono stati già organizzati 24 eventi, 24 seminari che vedono il coinvolgimento di università, di enti di ricerca, di enti locali ma anche di molte imprese, quindi con una logica divulgativa e di discussione ma su base scientifica su tantissime tematiche che riguardano appunto l'alimentazione. Ovviamente la ricerca in campo biogenetico pone seri problemi etici e tecnici legati alla modificazione del codice genetico di animale e piante utilizzati per la ricerca in campo medico e farmacologico. Guardiamo che ci sono gli animali transgenici in cui viene inserito un gene che sono qualcosa di importante nella storia recente della scienza perché permettono di prendere per esempio il gene di una malattia umana come l'autismo impiantarlo in un topo e andare a vedere se un farmaco che cura l'autismo indotto dalla trasformazione genetica in questo animale sarà poi efficace magari per poter usarlo su un bambino. Le regole internazionali e anche italiane impediscono di sperimentare direttamente i farmaci su bambini. Certamente c'è il pericolo che qualche topo geneticamente trasformato possa uscire e contaminare geneticamente la popolazione di altri topi perché si potrebbe incrociare con un topo selvatico. Per questo esistono delle regole ancora poco codificate in maniera tale che dove ci sono questi animali ci devono essere delle particolari reti e particolari barriere ma soprattutto speriamo che si monitorizzino quei predatori naturali di topi come per esempio il gufo all'occo o alcune specie di serpenti che possono essere presenti in grandi quantità intorno agli stabilimenti dove questi topi trasgenici artificiali vengono allevati. Quindi se il topo esce poi non riesce a contaminare. Ricordiamo che l'Italia, l'Europa, Roma è contaminata da pappagalli alieni. Chiunque guardi i cieli romani oggi è pieno di una specie che è arrivata perché è scappata dalle gabbie di qualcuno. e continuamente la fauna dei pesci di acqua dolce è completamente riempita di pesci che sono stati importati per errore quando si cercava di combattere la malaria importando piccoli pesci, le gambusie, per mangiare larve di zanzara. Quindi questo è un problema di proteggere la biodiversità naturale. Il secondo problema sono i timori di alcuni studi ancora molto embrionali su quanto per esempio un pollide trasgenico uscendo da un campo anche sperimentale possa andare a colpire, avendo magari delle proprietà insetticide qualche specie di insetti che diminuendo molto potrebbero far impedire la riproduzione per fame di alcune specie di uccelli insomma entrare in un turbine in cui l'ambiente intorno è cambiato. Grazie. Grazie. Grazie.